Ho una domanda per iniziare questo salotto on fire, entrare subito in un mood scoppiattante. Il miglior video di Space Valley e il peggior video di Space Valley. Non lo so. Va a f***la allora, sigla! Space Valley. Salotto. Riverenze a tutta la valle spaziale. Riverenze a tutta la valle spaziale. E nessuna risposta? No, non lo so. Bisogna pensare. Tiro. Allora, oggi faremo... È duro quello. No, Nick, il cavo, il cavo, Nick. Ma il Covid più che altro. Ma veramente, basta, via. Se mi dai fastidio con quella parrucca. Signori, cosa faremo oggi? Qualcuno ha uno smacchiatore. No, non ce l'ho, ma sarebbe un ottimo placement. Cosa faremo oggi per l'ennesima volta? Per l'ennesima volta. Perché è la prima volta. Una volta l'hai detto. Per l'ennesima volta che lo dico. Oh, guarda bene che questa cosa non va bene. Ma cos'è che è? Guarda che is destroyed. No. No, no, no. Ma è leggerissimo. Mi dà fastidio. Anche a me da te. Dai! Ragazzi, allora. Mi ha scritto la banca. Cosa hai detto? Sarebbe un ottimo placement anche questo. Capita spesso e volentieri di parlare con conoscenti delle proprie saghe preferite. E a volte c'è una saga che piace a tutti, però ci sono delle discordanze. Dove vai? Perché non vai? Ragazzi! Ma voi continuate! Quindi a volte non si è d'accordo, anche se diciamo si hanno gli stessi gusti in fatto di saghe, non si è d'accordo su quale episodio della saga si preferisce. Cioè chi preferisce uno piuttosto che un altro. E qual è il peggiore? Perché c'è il migliore della saga e il peggior capitolo della saga. Quindi abbiamo deciso oggi di affrontare diverse saghe e sentire ognuno di noi cosa pensa, ovvero quale preferisce. abbiamo selezionato le saghe più famose naturalmente e poi magari potremmo fare un altro episodio con quelle che ci mancano o quelle che ci suggerite voi nei commenti. Anche altre cose tipo migliore o peggiore, che cavolo ne so, di... Di videogiochi! Videogiochi! Di saghe e videoludie. Saree tv? Oh! No, serie tv e dire tv! È diverso! Donno, dici... Allora, da dove partiamo? Partiamo dal più semplice. C'è Harry Potter, dai. L'ho visto! Otto film! Ma perché otto film? Perché sono... Perché uno è diviso in due. Hai doni della forte. Esatto. Che sono iniziati nel... Io mi ricordo che non l'ho visto al cinema. L'intorno. E sono finiti? 2014? Non lo so. Quando andavi al cinema per addormentarti, guarda che io lo so. Diciamo, è una saga che ci ha cresciuto. Mani basse, qua è molto semplice, ragazzi. Mani basse, io spero che tutti siano d'accordo con me, perché secondo me è proprio così. Miglior capitolo. Il terzo. Lo dice anche io. Il pregiudio di Azra, il vano in cui finalmente cambia tutta la struttura del castello, diventa più dark, diventa più scuro, bellissimo. Il peggior capitolo in assoluto è il quarto, che è... Il quattro è quello con Hermione e il calice di fuoco. Il calice di fuoco. Ha una trama banale. Non è vero. Le anime sono quattro pro che vanno avanti. Ma non c'è nulla. Non si muove nulla. Non si muove nulla. Ma non è vero. Ma scusa, c'è finalmente uno scontro tra Magari e manda tutto il... Il quarto ti è piaciuto? A me tipo la cosa che mi è stata sui maroni tantissimo di Harry Potter è che si è molto chiuso in oggo. Anche il semplice fatto che arrivino altre scuole, quindi ti fa capire che ci sono altre immagini in giro per il mondo e non sono solo loro spiegati di Adolfo. Un bozzo? A me piace un bozzo. Tipo la ragazza che ha lega sotto con le sirene. Ah, è strabello. Ma anche quando vengono le branchiette a Harry. Ah, quindi a te ti piace il quarto? A me? Ma a te ti piace a tutti. Ma per te è il migliore? No, non è il migliore. No, aspetta. Non è il peggiore. A te ci penso un attimo, ma per me è il migliore. Io non me li ricordo, non li ho freschissimi. Io ho sempre sentito dire che il peggiore è il principio di matrimonio. Ma il principio di matrimonio è il primo. No, perché è lentissimo e non succede nulla. Ah, no, non sa di nulla perché per me è un po' di passaggio, però non è che è il peggiore. Io non mi ricordo. Ma vabbè, ma aspetta. Il migliore è il primo, la pietra filosofa. Bello, bello. No, il primo è perché ti introduzzi. Sì, ma ok, noi l'abbiamo visto e rivisto e sappiamo bene, ma pensa a una persona che ci si affaccia per la prima volta. Sì, è vero, è vero. E gli viene spiegato tutto, il quidditch, il mondo, i bambini. Sì, sì, quello è vero. È un film un po' vecchio. Devi fare un po' una distinzione, devi staccarti un po' dall'affettività che avevi perso. Allora è fighissima la battaglia finale dell'ultimo. A me non è piaciuto. Lei vi facciocchi. Forse l'ultimo secondo me è il più brutto. Oltimi due sono i più brutti. Ragazzi, aspettate, ma noi non stiamo pensando ai crimini di Grindelwald. Ah, no, io ho male fantasmi. Quella è saga Harry Potter. Quelli magari li mettiamo dentro quando esce il terzo. Teniamo solo gli Harry Potter. Secondo te, Nick, migliore o peggiore? Migliore, il terzo, peggiore anche il terzo. Perché il terzo è rivoluzionato tutto. E' tutto diverso. Ma quanto dura che c'è tutto il viaggio temporale. E' un testo incredissimo. A me facevano un po' schifino i licantropi. Dai, licantropi. Lupin è fatto graficamente. No, no, non mi piacevano proprio. Come cosa? Non è vero. Ma poi tu hai anche partecipato nel tre. Ah, Codalish. Codalish, c'è anche Codalish. E' molto figo, ora che ci penso, mi mettono tantissima ansia al due. Perché tu non capisci effettivamente niente di cosa sta succedendo. Non mi metto mistero e ti puzza veramente di mistero. Ci rimane un po' male alla fine. Però anche quello è un capitolino. Però scusami. La storiella che vive a Ogura. No, è l'inizio di tutto. Ma poi scusa, l'ipono salta arriva già lì. Lì un po' se ne frega niente. O tu me lo metti migliore. No, io ti metto migliore il quattro perché mi piace un po'. Come fai a mettere migliore il quattro? Allora, mi pensai mai che a me non è che ti piace tantissimo Harry Potter. Ed è quello che mi gasa un pochino di più. Ah, io non sono d'accordo. Come peggiore ti metto probabilmente, perché l'ho visto anche di recente, il principio è mezzo sangue, ma cercando di ricordarmi i capitoli della saga che mi rimangono in testa, il peggiore secondo me è la prima parte dei Doni della Morte. No, il problema è che l'hanno diviso e dividendolo il primo è per forza il pallone. Però noi non siamo troppo in disaccordo. Facciamo gli auguri a Frank che ha finito tutti i libri di Harry Potter. Auguri a Frank per la seconda volta. Ma per la prima volta? È in audiolibro però. No. Infatti è una cosa migliore con me. Bravo Frank, bravo. Aspetta, quindi per te qual è il migliore e peggiore? Il migliore terzo o il peggiore quarto? Il migliore uno, peggiore mezzo sangue. Migliore il terzo o peggiore il quarto? Io ho tre sette, tre migliore e sette peggiori. Scriveteci qua sotto nei commenti che anche per voi il quarto è il più bel film del mondo. Passiamo alla prossima saga. La terra di mezzo. Nella terra di mezzo, perché lui vuole che tu dica la terra di mezzo? Perché c'è dentro anche l'Hobbit. Perché se loro vogliono l'Hobbit allora devi chiamarlo la terra di mezzo. Ah, tu vuoi far comprendere tutto? Sì, dai, mettiamo anche l'Hobbit. Ma tu vai easy a mettere il peggiore lì. È difficile trovare un peggiore degli altri temi. No, metti un peggiore lì e poi ci combattiamo sul migliore. Anche perché ti direi, se no è molto facile perché nel Signore degli Anneli il peggiore è la Compagnia dell'Anello, ma non è vero. Secondo me no. Migliore. No, prima il peggiore. Il peggiore in assoluto. Per me il peggiore in assoluto è l'ultimo dell'Hobbit. Mi fidano. È stata una roba tremenda perché c'è una battaglia finale fatta tutta in computer grafica che è una cosa orrenda. Cioè veramente sembra di vedere uno di quei videogiochi del 2000. Ma io il due cos'è? Smaug. Smaug che è carino, esatto. C'è Smaug e c'è l'introduzione a Smaug. Il primo invece sono loro che vanno... Per me il peggiore è il primo. Anche secondo me è il primo. Io il primo proprio... Più che altro sai cosa? Ci sono rimasto proprio male. Magica avventura. Magica avventura a Canale 5 della Domenica. Era un po' sì. E poi passi da un Signore degli Anneli tutto fatto reale. Costumato. Con gli orchi. Costumato, studiato, sofferto a una cagatina. Sì, no. No, è che in anni sembra dei cretini. Anche gli orchi. Eh sì. Esatto. Ma anche solo che il nemico principale, l'orco bianco, non è un PG secondario che puoi permetterti di fare al computer, sia fatto a computer. Mi sono addormentato al cinema. No, è vero, è un po' una favoletta, però ti dico l'ultimo, io l'ho sofferto tantissimo. L'abbiamo sofferto tantissimo perché avevamo vissuto due capitoli con altissima delusione. No, io in realtà secondo me avevo un po' risvegliato. Ah, e poi io sono morto quando leggo la soffale a correzire. Ma in realtà io ho scoperto una cosa. Che lo può fare, perché lui in realtà è leggerissimo. Non ha peso, cioè lui è peso di piuma. Allora, è vero, però quando ho visto che riusciva a stare sui sassolini poggiati in aria, mi ha dato un mega fastidio. Ma tu l'hai visti lì? Tu l'hai visti? Perfetto. Io non ho visto l'Hobbit. Hai visto la signora Lillia? Le ho viste, ma non me le ricordo perché ero molto piccole. Così ha anche soltanto per feeling quale era il tuo preferito. Io mi ricordo l'inizio e la fine. Come inizia? Inizia con te, con Gandalf e risa. Finisce con Frodo che butta l'anello nel... No, 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 no. Al ragazzo sarebbe un passone. Me li vorrei rivedere, però non mi ricordo. Ne riguardiamo insieme. Saluto comunque a Kal-El, che ha fatto degli interessantissimi video su tutti questi film di cui stiamo parlando. Assolutamente. Vabbè, quindi peggiore è l'ultimo dell'Hobbit. Terzo dell'Hobbit. Primo dell'Hobbit. Io anche dico primo dell'Hobbit. Io ho il signore degli anelli preferito, l'Hobbit è peggiore. Ma non puoi darci un capitolo, è un film solo. Ma cosa vuol dire un signore degli anelli? È un unico libro, è un unico film. È molto falso. Non capite niente. Perché se fosse un unico film, come dici te, non li avrebbero divisi? Certo che li hanno divisi, come libro. L'hanno diviso perché non lo facciamo pubblicare intero, ma in realtà è un libro solo. Però i film sono tre separati, diversi. Sono stati via quattro anni in Nuova Zelanda per farlo. Vabbè, il migliore allora della Terra di Mezzo. Però per me è palese. Lui proprio mi ha detto che il peggiore è le due torri. Allora, io non mi ricordo esattamente. Allora, io mi ricordo una battaglia fighissima, quella con Legolas e Gimli che contano L2. Però io mi ricordo una scena nel Ritorno del Re, quando arriva Gandalf da sopra, la collina. E no, L2 è il migliore. E' il torri. E' il migliore. 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 I barbalberi che spaccano tutto. Nessuno l'ha mai voluto vedere con me. Ma io lo voglio vedere. Lo guardiamo insieme. Io l'ho rivista anche da poco. Io ho chiesto mille volte. Ma io ci sono quando vuoi. Diventa un mietto frodo. Allora, io concordo che il miglior capitolo sia il 2. Perché è bellissimo. No, vabbè, giustamente Poverino non l'ha visto. E se tu mi chiedi qual è il mio capitolo preferito del Signore Agnale, io ti rispondo il 2. Ma se mi chiedi quali sono i tuoi film preferiti, ti inserisco il Ritorno del Re. Ma perché il Ritorno del Re gioca su altre emozioni. Perché io mi commuovo con il Ritorno del Re, ma non mi commuovo minimamente con le due torri. Però tipo a te non piace la Compagnia dell'Anello. Però c'è la parte con gli Elfi. Però a me è Boromir che vuole. Non va mai. Un Elfi Quattore che ha una... Però è nella Lucanda che c'è Abra. Direi che comunque avete capito i nostri migliori e peggiori. E per non fare addormentare Nick, direi di passare alla prossima saga. Star Wars. Hai visto Star Wars? Certi. Tutti. No, no, no. Mi ha visto Star Wars. Aspetta, calcolando anche gli ultimissimi. Io l'ultimo non l'ho visto. Dai, non ho visto l'ultimo. Vabbè. Non spoilerate troppo. Dove a B1... Andiamo in ordine cronologico della Sony. Allora, qua è tosta, eh. Anche io ce li ho a Mambassa. Io proprio a Mambassa ce li ho. Allora, vai. Se tu ce li hai già da sparare, proprio... Allora, secondo me, giura in assoluto contando anche gli spin-off. No, non contare gli spin-off, se no... No, eh. Ma dillo giusto per sport. Ti posso solo per l'ho visto. Allora, il mio preferito con anche gli spin-off era Gua. A Mambassa era Gua. Il più bello era Gua. Era per sport. Se devo togliere gli spin-off, per me il mio preferito è il terzo. La vendetta di Sith. Eh sì. Bravo, bravo. Perché è uno dei tuoi film preferiti. La vendetta di Sith. E anche il mio. Anche il tuo preferito. Sì, sì, sì. Veramente? Sì. Beh, da molti è il preferito. Che altro l'abbiamo visto al cinema, noi. Mi ricordo quando sono andato al cinema a vedere quel film lì. È vero, Nick l'ha vissuto tutto diverso. Io il terzo l'ho visto al cinema. Aspetta, peso. Ero infottatissimo. Nick aveva tre anni. E c'era tutta un'ambientazione super particolare in quelli. E il peggiore per te? Il peggiore forse direi il secondo. L'attacco dei cloni. Ah no, dei vecchi. Aspetta, l'impero colpisce ancora. È pazzesco. Cioè, quello che loro sono vestiti da cloni. Ha un po' di... Che finiscono nei bidoni. Nel bidone. Esatto. È il quarto. È il primo. No, c'è il quarto. Il primo della vecchissima teologia. Il quarto. È una palla. No. Beh, ci alcoliamo comunque il diverso tempo. È un film lento del 77 quel film. Quello era un film che doveva uscire e restare lui e basta. Esatto. Esatto, era autoconclusivo. Era autoconclusivo. Il peggiore va cercato nei nuovi. Infatti, per me è il primo dell'ultima trilogia. Anche se com'è il 7. È il risveglio della forza. Il risveglio della forza per me è vomito pur. Per me invece il peggiore è il dodicesimo. No, io sto dicendo il 7. No, non è il 7. Sì, è il 7. 7, 8, 9. Sono 9. No, ma forse è il 12. Cos'è il 12? Io però ho detto 12. Ma perché hanno annunciato la nuova trilogia. Io ho paura di una cosa. Per me il peggiore è il nono. Il nono, l'ultimissimo, quello che ho uscito. No, l'ultimissimo ha delle robe fighe. L'ultimissimo per me è una roba in guardare. Io ho paura di non aver visto l'ultimo. Tappati le orecchie. Tappati un attimo le orecchie. Tappati le orecchie. Tappati le orecchie. Vabbè, ma anche quello precedente e anche quello prima. Scusate, ma il risveglio della forza è palesemente il remake del Riturno dello Geli. Ognuno di questi film è costellato da scelte discutibili. Secondo me quello con più scelte discutibili, ma nel complesso più brutto come film e come trama, è il 7. Ah, il 7. L'ultimissimo ha due scelte veramente terribili, ma nel complesso è meglio. La prima del 7 è che è una delusione. Perché, cavolo, torno a far Star Wars e poi... Il migliore di quella trilogia è scomera. Però è carino il 7. Però io non ho detto delle cose belle. Non ho detto il mio migliore. Allora, il mio migliore è perché mi spaccavo da bambino e quindi ci sono affezionato il Riturno dello Geli. Per me è fighissimo perché da bambino mi ci spaccavo, ma voglio difendere un botto la minaccia fantasma che è un capitolo... È un botto sopra, è sottovalutato. Sottovalutato, ma secondo me ha uno dei combattimenti finali più belli. Ragazzi, io però... Farò anche non l'ha detto i suoi. Quindi? Ah, è difficile. Sembra che si stia dichiarando una ragazza. Sì, è vero. Sembra che si stia dichiarando il suo amore. Vabbè, l'azzardo. Allora, il peggiore è il 3. Il migliore è l'8. Il migliore è l'8? Sì, andiamo avanti. Primo dei nuovissimi? Andiamo avanti. Secondo. Aspetta, ma l'8 è quello con... Ah, no. ...che vola tipo Superman? Sì. Vabbè, ci sono dei problemi. Ma qual è la prossima saga? Allora, affrontiamo il prossimo che sarà tosta a questo punto, l'universo Marvel. No, è troppo grande. Ma è troppo grande, infatti. No, ma non l'ho mai visto io. No, scusa, finiamo con Nick che ci spiega. Finiamo con Nick Twilight. Questa gang era iniziata perché non avevo visto un sacco di saghe. No, sei l'unico che ha visto Twilight. Eh, puoi dire. L'ho visto da piccolo, ma non me lo ricordo. Ma come non te ne ricordo? Hai detto che era l'unica che sapevi. Ma perché parlavate di un poster di Edward Cullen? Veramente. Ma tu sei innamorato di Pattinson. Eh, Pattinson è un granatore. Ah, un granatore. Un granatore, un granatore. Rivalutato tantissimo. Guardate il faro. Ma guardate come corrono nei film. Lighthouse. 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 Ma... Ma... Ma la Speed Dogs hanno fatto il... Come c***o hanno fatto della corsa? Sì. L'hanno fatto? E l'ho visto lì. Per il prossimo salotto mi guarderò tutti i film di Marvel che mi sono perso. No, ci mette una vita. Allora non li guarderò. A me manca gli XM. Io vorrei... Facciamo magari un video intero sull'MCU. Sì, ci sta. Questo assolutamente. Vorrei però chiudere così per... Marvel si è andati chiudendo. Vorrei fare una domanda a voi che anticipa un po' il discorso. In realtà più che una domanda è una richiesta. Diciamo che esistono tre Spider-Man. Ok. Il primo quando eravamo piccoli. Quello di Sony. Non so cosa sia. Di Amazing Spider-Man. Di Amazing Spider-Man. Che non è l'MCU quindi non l'ho visto. E poi c'è il nuovo. Nuovo fighissimo. Sto molla. Io vorrei sapere tutti e cinque in contemporanea. E chiudiamo il salotto così. Sì. Un po' di cinque, tre, due, uno in contemporanea. Dicessimo qual è il miglior film di Spider-Man mai uscito usando i numeri. Quindi uno, due, tre, quattro. Devo guardare il numero. Sono tre quello vecchio, due quello medio e tre quello nuovo credo. Devo uscire ancora il terzo. Devo uscire il terzo. Eh, ok. Allora sono tre, due, uno. Ma cos'è che devi ricordare? Non mi ricordo dov'è la scena che mi piace. Se me ne dici ti dico dov'è. No. Octopus è il due. Ok. Siamo andati. Siete pronti? Tre, due, uno. Uno. Cinque. 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 Ma avessi il Goblin dell'uno. Era il Goblin dell'unico. No, a me era la scena stessa. No, quello di questo. Sì. Vi vedete giusto sotto nei commenti. Dobby non c'entra nulla con Spider-Man mai tra voi più e migliore di Spider-Man. È lo sfigato che tu vorresti di essere nel tito Spider-Man. Sono i migliori e peggiori. No, è molto più. Il próximo sarà un altro meglio. E poi iniziali e cartucce. Ciao, Dobby quando vuoi. Dì, lo so. Allora. e magari ci potete consigliare anche voi il Goblin però dai il pezzo così quello è bellissimo e poi alla fine sdiene però a me fa cadare Ottavio a me che anche a me è un pezzo Ottavio